Giovanni Di Lorenzo è finito nell'occhio del ciclone dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi, il quale ha detto che farà di tutto per portarlo via da Napoli. Il capitano azzurro, dopo una stagione negativa, proverà a riscattarsi agli europei che inizieranno tra una decina di giorni in Germania con l'Italia, maglia che vestirà anche questa sera per l'amichevole contro la Turchia. Uno dei primi obiettivi di Antonio Conte e del suo braccio destro Lele Oreali sarà proprio quello di risanare la rottura tra Di Lorenzo e il Napoli, impresa che ad oggi risulta con complicata. Nonostante il club partenopeo abbia ribadito in un comunicato ufficiale l'incedibilità di Di Lorenzo, rispondendo a tono alle affermazioni di Giuffredi, sembra che il procuratore napoletano voglia proseguire per la strada che porta alla separazione. In settimana è previsto un incontro con Cristiano Giuntoli, ex DS Azzurre, ora dirigente della Juventus, per capire fino a che punto i bianconeri siano disposti a spingersi per il cartellino del terzino Exempoli. Ci sarebbe l'ok del nuovo allenatore Tiago Motta, che vede in Di Lorenzo l'esterno ideale per la sua difesa 4 con Bremer, Danilo e Calafiori, altro obiettivo di mercato chiave. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, che la dirigenza piemontese proverà ad abbassare intorno ai 18. La palla ora passa a Di Lorenzo, che dovrà decidere se seguire la linea del suo agente o meno.